Infiltrazione nell'access point Vediamo cosa succede Allora, allerta la mappa Ah Puntamento Mira del soldato aumenta di 15 Provinità di credit queen Per tre turni Mi spiega però Non ci riesco Tocca lei Via 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 Vai blasto Manca grande Hai mancato la grande E dai Siamo vicini Mena sono cinque Abbiamo la visuale sull'obiettivo Muovetevi e proteggete l'attrezzatura Aia Vale Tanti saluti Promozione Altri nemici in arrivo Da dove? Da dove? Allora Molto bene Mi muovo all'istante Mi tengo pronta Agli ordini Agli ordini Mi muovo Mi muovo Vedo la posizione delle truppe Eccole Cazzo mi muovo eccole Cazzo la mozza E concentrati E concentrati Allora Allora Vabbè Si Sì Ah Vabbè Ma proprio lì me li scarichi C'è proprio in mezzo Ma Ma cazzo Vabbè Ma dai Ma che sfiga cazzo Eccolo Maledetto Maledetto Allora Ma giochiamo un momento Mi muovo verso le coordinate Critico Ma non è morto Parto Ok Sistemato Munizioni in esaurimento Musica Ma giochiamo un momento Ma chiuscini in esaurimento Ma giochiamo Ma giochiamo C'è proprio sangra Ma giochiamo Ma giochiamo Ma giochiamo Ma giochiamo Ma giochiamo Molto bene, così muore anche le zombie Tu vorresti una cosa intelligente se vai qua dietro Eseguo e mi muovo E non te spari A questo Sboom Oh cazzo ce l'avevo accolito No, Blasto Blasto che culo Non riesco a muoverli, gli attaccano dai lati Non prendo la scuola Non prendo la scuola Ok Perfetto Eh si mancato ma tanto Sploderà l'auto Sploderà Io non ho indicato che eri in guardia Sono un coglione Io ci sono Ah ok Sono tutti messi così così eh Allora Fammi sezionare lei No Ah non posso perché ne fai No sezionate E voglio dare un bel tendente Posto? Finito? Ma è nessuno 5 è stato confermato Tutti i nemici eliminati E area libera Ma è nessuno 5 è stato confermato Missione compiuta Buono Ok Madonna Palazzo è stato fortunato In maniera Epice Va bene ragazzi Lo vediamo quando Finisce il caricamento Vediamo il gremium Ora provo a seguire azioni Quindi Dica la distanza Ora Dica di salsicura Non si Dica di salsicura Ok buono Mmm Ehm questo po' lo vedo muovi presidioni con la spada questi soldati non sono scosti no poi ci danni con la spada buono i granatieri sono i nostri esperti nelle demolizioni ma se necessario sono anche in grado di usare armi pesanti ok grande blasto soldato quanti giorni? 21 giorni c'è scritto questo è il giusto molto bene comandante lo stress del combattimento può logorare anche i nostri migliori soldati finché li manterremo in salute con il tempo potranno recuperare questo è il giusto questo è il giusto è il giusto non è il giusto quindi il giusto il giusto il giusto è il giusto direttamente alla prossima puntata che vedremo questa trasmissione segreta va bene alla prossima ciao